hello i'm teacher maria oggi impareremo delle nuove parole chi intuisce quale sarà l'argomento? very good avete indovinato oggi parleremo degli animali iniziamo dagli animali che fanno parte della nostra famiglia e che vivono in casa con noi gli animali domestici che in inglese si chiamano pets dog cat fish turtle bird rabbit adult continuiamo adesso con gli animali della fattoria che in inglese si chiamano farm animals pig cow chicken horse sheep duck e infine concludiamo con gli animali selvaggi wild animals lion tiger elephant crocodile crocodile snake monkey pig animal animali nel mondo sono davvero tanti quindi per adesso provate a memorizzare i nomi di questi ponendo attenzione alla giusta pronuncia Vi saluto con una domanda finale Qual è il vostro animale preferito? Bye bye children, alla prossima!